Una vacanza con villa con piscina privata è assolutamente da fare ragazzi. È veramente un'esperienza emozionante. Avevamo addirittura paura che fosse troppo bello per essere vero. Poi in realtà siamo arrivati sul posto ed era esattamente come era stato descritto. Le ville sono estremamente lussuose ma personali, immerse in una privacy e in un silenzio assoluto. Ha una piscina molto scenografica con un tramonto negli Urivi meraviglioso. Sono veramente una più bella dell'altra. Ho trovato il perfetto equilibrio tra eleganza, raffinatezza, ruralità e pulizia. Ogni villa di Puglia Parades infatti ha un consiglio. Siamo sempre stati assistiti al meglio con estrema gentilezza, con velocità. Premurosi, attenti e faranno sicuramente di tutto per farvi passare una vacanza indimenticabile. Con pochi minuti di auto si possono raggiungere calette, spiagge semplicemente meravigliose. Li trovi in un vero paradiso, sia come location, sia come servizi, sia come assistenza. È la meta ideale per un gruppo di amici che cercano relax, divertimento e condivisione in una vacanza. Una struttura davvero top, in una regione top, con un'organizzazione e uno staff top. Sicuramente è una vacanza che proporrei ad amici e sicuramente noi ci torneremo. Io ci torno e ci tornerei altre mille volte. Ovviamente sempre con Puglia Parades. Grazie a tutti.